Un uomo di 60 anni Il uomo di 60 anni è stato trattenuto in caserma dai carabinieri in attesa di essere tradotto in carcere, arrivato in macchina al biellese e in corso sopra il luogo dei carabinieri del SIS, sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, sulla macchina dell'assassino ritrovata nel cortile di casa della vittima. Alla base dell'omicidio dovrebbero esserci vecchi dissapori tra i due ma non sono ancora chiariti. Grazie 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 Grazie